morti. Quindi è peggio di una guerra e nessuno questo lo considera. Quanti morti si possono rischiare? Questo è il problema. Moni Elawi, lei è il ristoratore, leader di Oapro, il movimento di protesta dei ristoratori. Ha tenuto aperto ieri nonostante il coprifuoco? Come ormai sa tutta Italia, io non ho mai chiuso da ottobre, dalla prima zona gialla, proprio perché dopo alcuni, da parte del governo, interventi ci siamo resi conto, almeno io come ristoratore, che saremmo andati in conto a un periodo molto molto difficile, proprio a livello lavorativo, perché come abbiamo visto immediatamente dopo abbiamo messo tutto a norma, abbiamo comprato tutto ciò che è investito su plexigas, distanziamenti e tutto quanto e vedersi chiudere in faccia di nuovo la propria attività, la propria fonte di sostentamento ovviamente è stato un colpo per noi, quindi ho tenuto aperto, ho continuato a battagliare insieme ai ragazzi di Oapro e siamo arrivati a creare un grande movimento. Vi siete scritti da soli il decreto per la vostra riapertura e l'avete rispettato? Sì, ci siamo scritti da soli un decreto e ci siamo anche proclamati governo di Oapro in maniera di fantasia, un nome di fantasia, proprio perché non ci sentiamo più tutelati, non ci sentiamo più rappresentati da chi sta mandando avanti le cose. Io lo spieghi a Davigo perché l'avete fatto. Ma l'abbiamo fatto ovviamente con una provocazione, l'abbiamo fatto per l'articolo 54. Una provocazione però siete stati aperti. Sì certo, proprio perché l'articolo 54 siamo in stato di necessità, avendo dei sussidi che sono arrivati inferiori al 5%, è come se lei guadagnasse 1500 euro di media e arrivassero 75-80 euro al mese a sostituire questo stipendio. Capisce Davigo? Quindi abbiamo ritenuto opportuno fare in questo modo. Lo stato di necessità viene ritenuto in casi di estrema gravità. Io ho sempre visto per decenni, per esempio in caso di occupazione delle case, gli imputati invocare lo stato di necessità. Rarissimamente ho visto ritenere lo stato di necessità. Perché lo stato di necessità è quando non è altrimenti evitabile. Questo è il problema. E lui ritiene che non lo sia? Prego. Ma non è che uno lo ritiene lui, deve essere oggettivamente così. Assolutamente, infatti il dottore ha detto prima una cosa assolutamente giusta. Lei diceva, ma è opportuno secondo lei infrangere se sono delle leggi oppressive? Beh, questo prima o poi andremo sicuramente dai magistrati.